Quale modo migliore per combattere le rigide temperature di questo inverno se non bevendo un'ottima quadruple? Ho pensato infatti di fare una mini serie dedicata a quello che ammetto essere probabilmente il mio stile preferito ossia le quadruple. Sarà una piccola serie di sei puntate in cui proverò ad analizzare tre quadruple diciamo classiche storiche belghe ovviamente e tre quadruple invece italiane e per iniziare non potevo non scegliere quella che forse è uno degli esempi sia più famosi ma secondo me anche tra i più buoni ovviamente di quadruple e la birra in questione è la Rochefort numero 10. Direi quindi bando alle ciance e vediamo subito la scheda di questa birra con tutte le informazioni. Allora partendo dal birrificio, il birrificio in questione è ovviamente la Brasserie de Rochefort, birrificio ovviamente trappista, siamo all'interno dell'albazia di Notre Dame de Saint-Rémy in Belgio ovviamente. Il nome di questa birra è Rochefort 10, lo stile è come anticipato una quadruple o per essere precisi a tenerci alla categoria del BJCP, questa è una Belgian Dark Strong Ale, categoria 26D appunto del BJCP. Prezzo di questa birra, questa ad un beer shop a 4,90€. Il bicchiere che vi suggerisco per questa birra è la coppa trappista, meglio ovviamente se è brandizzata Rochefort ma vanno bene comunque tutte le coppe trappiste. Primo assaggio no, direi proprio di no, che non si tratta di un primo assaggio. Visto che sarà una serie sulle quadruple, mi sembrava opportuno dire un paio di parole giusto per introdurre questo stile. Per birre quadruple, o meglio Belgian Dark Strong Ale appunto se vogliamo attenerci alla codifica ufficiale del BJCP, sono birre che hanno diciamo come caratteristiche principali sicuramente spicca un discreto tenore alcolico, in questo caso infatti stiamo parlando di una birra da esattamente 11,3 gradi. Altra caratteristica è come suggerisce il nome Dark, quindi birre scure. Sono birre caratterizzate da un bouquet aromatico abbastanza complesso o molto complesso, dove ci sono alcune caratteristiche comuni a tutte le quadruple, tra cui un ruolo del lievito molto importante, soprattutto per i sentori legati ai descrittori diciamo speziati. C'è sicuramente un corpo molto molto denso che aiuta a sostenere effettivamente un anche grado alcolico appunto non indifferente. In generale direi che la parola d'ordine che forse più di tutte contraddistingue queste tipologie di birre è senza dubbio la complessità. Come molte altre birre belghe diciamo che i luppoli non sono in primo piano, comunque la parte amaricante non è diciamo la vera protagonista di queste birre, dove invece trovano molto spazio sia ai malti sia ai contributi dati dai lieviti, che lasciano quindi sicuramente una dolcezza, soprattutto nella parte iniziale della bevuta, molto molto importante. Poi ovviamente i diversi produttori possono interpretare diversamente questo stile, ma una caratteristica di tutte le quadruple è certamente avere l'amaro sempre in secondo piano e utilizzato sempre e solo giusto per controbilanciare questo corpo molto maltato che quindi dà un'abbondante dolcezza alla bevuta. Giusto perché stiamo affrontando una birra trappista, un veloce ripasso su cosa sono le birre trappiste, come avrete sicuramente già visto in altri video. La definizione di birra trappista indica semplicemente il rispetto di alcune particolari regole, ma indica principalmente dove questa birra è stata prodotta. Quindi questa birra è stata prodotta all'interno di un monastero. Questo monastero ovviamente deve appartenere all'ordine dei cistercensi della stretta osservanza, anche detti ovviamente trappisti. La birra deve essere prodotta dai monaci stessi o eventualmente da personale laico sotto il diretto controllo dei monaci. E la terza categoria necessaria per avere il logo esagonale presente anche su questa bottiglia che indica il fatto che questa è una birra trappista è ovviamente che tutti gli incassi generati dalla vendita di queste birre devono essere riutilizzati per il sostentamento dei monaci o come molto spesso accade per opere caritatevoli, opere di bene. Questo quindi per ricordarci che birra trappista non indica uno stile particolare, per esempio il famoso birrificio trappista americano di Spencer produce delle IPA, proprio delle American IPA molto classiche. Birrifici europei tendenzialmente stanno su birre europee, però per esempio Orval, giusto per citare un'altra birra molto famosa, produce una birra leggermente acida con bretanomices e con un generoso dry hopping che è una tecnica, al di là di essere molto recente, è una tecnica utilizzata per la lupolatura. Quindi esce un po' dagli stili classici del belgio dove appunto il lupolo è un po' in secondo piano e invece con Orval abbiamo birre molto secche, brettate, molto funky e con un lupolo sempre molto molto importante comunque che spicca bene nella birra. Direi che abbiamo parlato abbastanza, l'ultima cosa giusto per correttezza sull'estetica della birra, le bottiglie Rochefort hanno tutte ovviamente questa forma, questo colore marrone scuro, sempre per il solito discorso di filtrare il più possibile i raggi solari. Il tappo è diverso in base alle tre tipologie di birre in produzione, la 10, la 8 e la 6, cambia ovviamente il numero riportato sul tappo e il colore. L'etichetta per il resto invece per tutte e tre le bottiglie di Rochefort è identica, bash e semplicemente viene riportato il logo della bazia e sotto il numero. La temperatura di servizio per queste tipologie di birre, per le quadruple in generale, è un po' più alta rispetto al solito, soprattutto rispetto a Pils o comunque a birre a bassa fermentazione e infatti viene consigliato anche sul retto dell'etichetta 12-14 gradi come temperatura ottimale di servizio. È una temperatura effettivamente che potrebbe sembrare un pochino più alta, ma per birre così complesse è essenziale stare appunto su un range di temperature più alte, sempre per il solito discorso che a temperature troppo basse rischiamo davvero di perderci alcune note e soprattutto restringiamo molto quello che può essere il buco aromatico e quindi ci perdiamo la complessità al naso che è una delle caratteristiche principali di questo stile e anche di questa birra. Ok, ho parlato già abbastanza, direi la bottiglia è già fuori da qualche minuto quindi dovrebbe aver raggiunto secondo precisissimi calcoli spannometrici che ho fatto poco fa la temperatura indicata, direi che possiamo aprirla. Mi fermo come al solito per evitare di versare anche il lievito. Ovviamente la questione del servizio con o senza lievito dipende dai gusti personali. In molte birre si tende a non versare il lievito proprio per evitare di andare a aggiungere caratteristiche come quelle che può dare il lievito al prodotto. In altre tipologie di birre secondo me non è un problema, soprattutto birre come queste dove gran parte della complessità è data proprio dal metabolismo del lievito, da tutta una serie di sottoprodotti aromatici che produce questo ceppo di lievito e che vanno a caratterizzare tantissimo queste tipologie di birre. Quindi in birre di questo tipo a me personalmente piace comunque poi versare il lievito, soprattutto se ho già fatto una degustazione so già che tipo di birra vado ad analizzare. Se è la prima volta che invece vi approcciate con una birra potreste preferire, magari su birra un po' più leggera, tipo le Saison, potreste preferire isolare magari il lievito. Dipende dal gusto personale. Sappiate che molte delle caratterizzazioni anche delle Saison sono date però proprio dal lievito, quindi se non si tratta di birre dove o il tono generale è molto delicato, tipo alcune basse fermentazioni, o non c'è un lupolo particolare da andare a cercare col naso, se il lievito è caratterizzante può aver senso versarlo all'interno. Insomma, dipende da quello che preferite. Tenete conto che però sulle birre chiare versare il fondo con il lievito può rendere più torbida la birra. Ovviamente stiamo parlando in questo caso di una birra già molto molto scura, quindi non è che il lievito vada poi a modificare ulteriormente il colore di questa birra. Passiamo quindi innanzitutto all'analisi visiva della birra. Sicuramente c'è una schiuma non abbondante ma persistente, perché sto già parlando da diversi minuti e la schiuma continua a rimanere. Questo è anche uno dei motivi per cui si tendono a usare queste tipologie di bicchieri, perché non c'è bisogno, come nel ballone o nel tulipano, di tenere compatta la schiuma, che già è sicuramente abbondante. La schiuma è di un color beige con una texture molto fine. La birra si presenta di un bellissimo color di rai ebano, o comunque molto molto scuro. Puntandole in direzione di una sorgente luminosa si possono vedere dei riflessi più chiari, ma sono davvero molto 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 tenue. direi che possiamo passare all'analisi olfattiva. Beh, che dire, come ci aspettavamo? Abbiamo capito che la parola d'ordine in queste tipologie di birre è sicuramente la complessità. Effettivamente il naso, oltre anche a una discreta intensità che non sempre c'è in queste birre, cioè non stiamo parlando di IPA dove ci arriva subito una forte impronta del lupolo. Qui in questo caso, in queste birre, di solito siamo su livelli più delicati e più umani, per così dire. In questo caso, già prendo la bottiglia e versandola, un fantastico profumino già stava arrivando al naso a questa distanza. Comunque, ciò che troviamo nel naso sono tante cose. C'è sicuramente la parte dei malti che dà questi profumi di caramello, dà anche un discreto profumo, secondo me, di pane, intendo proprio la pagnotta. C'è poi tutto il mondo dei descrittori delle spezie, e anche qui, in questo caso, stiamo parlando di spezie secondo me più delicate rispetto ad altre birre dove magari si sente forte il pepe. Qui, se dovessi dire una spezia, probabilmente andrei verso il coriandolo, quello che spesso troviamo anche nelle blanche, per intenderci, e anche in alcune season. Altra cosa che c'è al naso è sicuramente anche un fruttato, e se dovessi essere preciso annusando, io direi, frutta candita, e mi fa pensare proprio alle canditi utilizzate nei dolci, nel panettone, giusto perché siamo in periodo invernale e natalizio. Diciamo che le cose che si sentono sono queste, c'è dell'altro, forse c'è anche un po' di liquirizia, forse c'è un po' di tostato, forse non l'ho sentito, ma siccome so già che c'è in bocca, perché conosco bene questa birra, mi sembra di andare a sentirlo, insomma c'è un mix di sensazioni che rendono questa birra anche molto interessante e divertente soffermarsi a infilare il naso, annusarla e cercare tutte le sensazioni che ci vengono appunto alla mente. Direi che possiamo adesso passare però al palato. Anche qui non saprei davvero da che parte iniziare, è una birra sicuramente complessa in bocca, iniziamo forse per questa volta da tutto ciò che sono, diciamo, le sensazioni tattili in bocca, partendo da il corpo, è una birra con un corpo molto denso e davvero supportato anche da una frizzantezza elevata, quindi buona carbonazione, buon corpo, il che rende la birra anche difficile da mandare giù velocemente, da ingoiare velocemente, ma non è una birra fatta ovviamente per essere bevuta con troppa foga e ci permette quindi in questo caso anche di farcela girare bene in bocca e farla degustare al meglio. Le sensazioni boccali appunto sono queste due principali, quindi frizzantezza, sostenuta e un buon corpo, passando invece a ciò che è il gusto, sicuramente come anticipato il gusto principale in questa tipologia di birra è il dolce, non è un dolce stucchevole, anzi è un dolce moderato, però tra tutte le componenti sicuramente la componente dolce spicca di più sulle altre. Ricordiamo che le componenti del gusto sono appunto dolce, salato, amaro, acido e in certi casi si fa rientrare anche il descrittore umami, comunque di queste componenti la principale, quella maggiore per intensità gustativa è sicuramente appunto il gusto dolce. Ciò che poi dopo noi sentiamo deglutendo la birra e quindi andando a fare evaporare parte di questa birra che ci ritorna nel naso, quello che chiamiamo appunto retrogusto e retroolfatto, in questo caso troviamo tante 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 cose. Si ritrova sicuramente quei descrittori che avevamo nel naso e che associavamo a qualcosa di dolce, il caramello e in questo caso tanto tanto pane. Altra cosa che si ritrova bene in queste birre è soprattutto dopo aver manato giù il sorso, torna questo retrogusto di liquirizia, molto interessante. Cosa terribilmente pericolosa di questa birra è l'alcol, 11,3 gradi non si sentono ma davvero un corpo così complesso, così strutturato riesce davvero a sia sostenere ma soprattutto nascondere il grado alcolico perché assolutamente non si sentono gli 11 gradi nel momento in cui bevete. Ciò che sento adesso parlando è un po' di calore, di warming come si dice proprio in inglese che ha una terminologia, diciamo un lessico un po' più completo per le degustazioni brassicole ovviamente essendo culturalmente più vicini a questa bevanda. C'è questo warming che ritorna appunto in bocca e che ovviamente scalda la gola, la bocca e anche lo stomaco ovviamente. Ma la cosa particolare di queste birre è l'abilità dei produttori di riuscire davvero a nascondere l'alcol. E un alcol ben nascosto, al di là del fatto che può essere un po' pericoloso per chi beve perché non si accorge di bere una sostanza, una birra così alcolica, l'alcol ben nascosto è sicuramente indice di una abilità molto molto elevata nel lavorare, nel produrre una birra. Questo perché innanzitutto non vengono prodotti tutta una serie di sottoprodotti alcolici dovuti appunto a fermentazioni non condotte diciamo in maniera corretta, sia perché l'utilizzo dei malti è davvero magistrale in modo tale da andare con determinate componenti dei malti a coprire quella che è la sensazione se no di bruciore che provate su vini molto alcolici, su superalcolici ovviamente o semplicemente su birre fatte male in cui percepite già l'alcol anche se il volume alcolico magari è ridotto. Visto che la serie comprenderà la degustazione di diverse birre vorrei trovare diciamo una parola che possa aiutarci poi a distinguere le diverse quadruple che assaggerò perché è uno stile insomma con linee guida piuttosto strette quindi tendono ad assomigliarsi molto le une con le altre ma vorrei cercare appunto anche per ricordarmene poi di dare una parola che può una parola comunque qualche tipo di descrizione che possa rendere unica la quadruple per ricordarmela quando poi andrò ad analizzare le altre. Secondo me della Rochefort cosa che apprezzo tantissimo è rispetto alle altre forse una dolcezza minore ma qui adesso poi dovrò ovviamente pensarci quando andrò a degustare le altre. Parole d'ordine che vorrei associare a questa birra è un tostato leggerissimo ma c'è un tostato che in altre quadruple non è così presente e c'è una sul retrogusto questa liquirizza che torna in maniera abbastanza interessante. Ora non ricordo adesso a memoria se anche sulle altre che assaggerò c'è questa cosa così evidente però ecco giusto per metterci qui due parole e ricordarci poi nei prossimi video cosa andare a scrivere a segnare per ricordarci poi le differenze con altre quadruple ecco su questa qui direi sicuramente metterei come appunto tostato e liquirizza. Ovviamente preciso non è una stout siamo lontanissimi da quei livelli di tostato ma sulle sensazioni genericamente che associamo alle quadruple qua spicca un filo di più questa sensazione di tostato. Questa quindi era la Rochefort 10 adesso bisognerà fare un po' di video con altre quadruple e so che sarà dura, è un duro lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo. Scol!